Noi abbiamo una buona barca, l'abbiamo ancora migliorata poi chiaramente mancherà un po' di allenamento in mare da quel punto di vista lì, il livello è alto vedo che qua si allenano molto, anche insieme escono, provano, tutta quella fase lì chiaramente sarà un po' sacrificata però dovremmo riuscire a fare anche degli allenamenti in mare per fare appunto quel lavoro lì ci piacerebbe fare una lunga navigazione per veramente testare e chiudere la barca ma non siamo tanto stressati da questo cioè l'importante è sapere bene dove siamo le carte che abbiamo, dove siamo forti secondo me anche grazie a tutte le persone che lavorano con noi perché quello è importante, gente motivata che lavora duro e quindi abbiamo le nostre carte in mano grazie a tutti